Ciao a tutti ragazzi qui da Giocherina per questo breve avviso questo qui ragazzi sarà l'ultimo video di agosto perché da lunedì Rodrigo sarà ufficialmente in ferie e come avevo detto un pochettino di tempo fa ragazzi il 15 partiremo per le vacanze quindi andremo a stare in Italia, andremo a stare a casa mia insieme alla mia famiglia e ci staremo fino al 31 agosto questo ragazzi per avvisarvi del fatto che purtroppo non ho avuto tempo per registrare video da caricare durante la mia assenza e quindi il canale sarà disattivo per le ultime due settimane di agosto vi chiedo scusa per questo ragazzi però non ho potuto fare in altro modo purtroppo in ogni caso ci aggiorneremo sui social quindi vi aggiornerò insomma su come andrà l'andamento delle vacanze su Instagram, su Telegram, magari anche su Facebook quindi se volete potete seguirmi lì e niente volevo dirvi che mi mancherete però comunque ci rivedremo a settembre ragazzi e ricominceremo la grande perché dovrò finire comunque la serie su The Wardrobe la serie sui pilastri della terra ragazzi mi dispiace ma purtroppo temo che dovrò interromperla perché il gioco è troppo lungo, è troppo lento e purtroppo è poco seguito quindi inizierò due nuove serie horror questo è sicuro e poi insomma vedremo che altri giochi portare per cui niente volevo soltanto avvisarvi di questo io comunque vi ringrazio sempre per la vostra presenza per il vostro affetto come sempre e mi mancherete un sacco però appunto ragazzi ci sentiamo mi raccomando sui social e vi voglio un mondo di bene vi auguro buone vacanze e niente ci rivedremo qui su youtube a settembre un bacione ragazzi ciao